Dal primo fondo un dribbling e un tiro scoccato da Pazzini al terzo minuto si trasforma in gol. La Salernitana reagisce concretamente al 32esimo con Perna che risolve in mischia. Ma la concretezza della prima della classe si fa sentire. Pinardi trova un delizioso pallonetto al 45esimo e Pazzini che non fa rimpiangere Boudin completa l'opera con il gol della personale Dottietta al decimo della ripresa.